Editoriale Disobbedienza civile, no alla rassegnazione Disobbedienza civile è un compendio sulla protesta pacifica contro l'attuale politica Palazzo Vermexio che ha imperato da oltre 30 anni contro la rassegnazione e sottomissione al destino di una città come Siracusa destinata alla decadenza e all'oblio. Disobbedienza civile è il titolo di un saggio di Henri David Thoreau il quale è stato riconosciuto come uno degli esponenti del cosiddetto rinascimento americano che suscitò l'entusiasmo di Tolstoi e fu scelto da Gandhi come manifesto della lotta non violenta. Come si è salvata la coscienza democratica in quegli enti locali dalla propaganda al cloroformio e dall'incapacità amministrativa? Attraverso la coscienza individuale delle singole persone. Scuotere la coscienza dei stragusani in base alla personale sensibilità può vedere compresa in modo inaccettabile la gestione della città, la propria libertà di autodeterminazione tanto da decidere come gesto di ribellione di non conformare il suo comportamento alla regola. Nasce così la disobbedienza civile. La disobbedienza civile è partita agli amici politici, ai compromessi elettorali, disobbedienza civile a tutto ciò che vi fa sentire male, obbligati e repressi. Libertà. La disobbedienza civile è l'altra faccia della partecipazione attiva alla vita politica del territorio. Si mette in atto quando l'individuo si sente tradito nei suoi valori democratici o quando vede erosi i suoi diritti da atti che ritiene giuridicamente illegali o, anche se giuridicamente legali, moralmente illegali, secondo una concezione laica di coscienza intesa come capacità di discernere ciò che è giusto da ciò che non lo è, ovviamente in senso individuale. Cari lettori, questo è il concetto in sintesi per lo stato di fatto nella nostra città, è un nuovo cammino da intraprendere per avere un quadro chiaro di visione del futuro della nostra città. Disobbedienza civile come la rivoluzione culturale sono due facce della stessa medaglia ed è l'unica strada da intraprendere per cambiare le sorti della nostra città che fu un tempo, una vita gloriosa al giorno d'oggi caduta in profonda disgrazia per colpa di questa politica deficitaria in tutto. Cari lettori, individuato un prossimo nuovo sindaco coraggioso che insediato sia Palazzo Vermexio con il diritto a dovere deve azzerare tutto per chi vince o per chi muore, in latino out vincentibus illis qui moriuntur e ricominciare un nuovo percorso di vita con Sprint, l'entusiasmo giusto verso nuovi leader dello sviluppo e ridisegnare una nuova economia. Siracusani, avete il diritto di dire no a falsi candidati, a sindaco, profete, compiacenti ai partiti, camuffanti da liste civiche, predicatori e adulatori del bene che poi rassolano male per non cambiare nulla, no a sindaci fantasmi nel passato. Non cadete più in errore come nel passato. Errare umano maest perseverare autem diabolicum maest, errare umano ma perseverare nel caso dei siracusani e da cretini. Non sappiamo la verità sulla conduzione economica dell'attuale sindaco, lo sapremo dopo, ma intanto allo stato attuale il comune di Siracusa è sommerso di debiti, a un passo dall'implosione e i siracusani anch'essi sono flagellanti da imposte. Per le prossime amministrative occorre trovare un candidato a sindaco pronto a immortalarsi alla causa della normalità prima e dello sviluppo dopo, trovare spazio per una brandina per alloggiare stabilmente a Vermexo con notti insonni. E' questo lo scenario che si prospetta per il prossimo futuro, per il nuovo primo cittadino. Niente passerelle o sindaco vetrina, solo un lavoratore minatore che affronti le gallerie del buio dei debiti nei sotterranei del palazzo. Il nuovo sindaco deve accertare urgentemente il fenomeno dei debiti fuori bilancio che costituisce una delle patologie più gravi e si configurano quale causa principale di pesanti squilibri finanziari da risanare. Ma i numeri vengono prima, o meglio, un numero di otto cifre, 38 milioni di euro di debito e l'esposizione finanziaria del comune a fine luglio di quest'anno, 328 euro di debito per Siracusano. La città ex capitale dell'isola nell'Ottocento quindi si frantuma e spesso scompare incapace di resistere all'urto congiunto delle malannate di sindaci incapaci e mancati effetti di penetrazione di capitali freschi di una nuova economia cacciata in malo modo da ambientalisti visionari dediti alla mummificazione del territorio pronti a fare sempre delle barricate del nullismo e creare false allarme sul territorio fra la gente e il notorio processo della proletarizzazione dei siracusani della povertà che avanza inesonabile senza prospettiva con i giovani fuggitivi l'asticella della protesta degli astenzionisti siracusani contro la mala politica che avanza inesonabile in incubazione da lungo tempo e comincia a dare segni di malessere interiore in città si parla sottovoce ma dai volti corrucciati traspare un comune sentimento di sdegno di collera repressa i siracusani credono di individuare i responsabili del comune malessere popolare ed esprimono il proprio pensiero sui rimedi da adottare immaginate per un siracusano non è difficile una storia di bilanci pubblici oltre il limite del disastro di presunti falsi in bilancio con entrate fantasma di vittimismo politico che per non affrontare il problema attribuisce ad agenti esterni le colpe di un buco di bilancio fatto in casa e di un complicato tentativo riformista che prova l'impresa di invertire la rotta della nave siracusa alla deriva senza spaventare troppo i passeggeri in Genove che concentra tinte forti, pregi e difetti della Sicilia di cui è la quarta città sul nuovo ospedale di Siracusa si avverte l'assordante silenzio del sindaco Italia che è sempre disinteressato alla vicenda l'incarico del commissario prefetto Giuse Scaduto per la precisione è decorso lo scorso 6 novembre sono trascorsi due anni tra tempi burocratici per il procedimento cellere per la costruzione sulla scia del ponte Morandi ma ahimè non siamo a Genova con l'occhio vigile del governo ed è andato purtroppo in fisiologico decadimento in questo contesto il sindaco Italia che doveva stare molto attento alla vicenda del suo territorio del nuovo ospedale doveva preoccuparsi anzitempo abbondantemente prima della scadenza del commissariamento a contattare i vertici regionali romani per sollecitare l'opera nella continuità e invece è accaduta la scadenza eppure il ruolo del sindaco per legge indica che è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio e il Consiglio Comunale condivide questa responsabilità allo stato attuale per una modifica alla legge ai sindaci sono affidati i poteri di programmazione di controllo e di giudizio sull'operato del direttore generale delle ASP questo conferma la nostra tese se ancora ne fosse dell'incapacità del soggetto per la verità come nostra professionalità nello scrivere il commissario nonché prefetto di Siracusa giù si è scaduto dal giorno della sua nomina ha curato gli aspetti procedurali fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica aveva intrapreso il cammino con il concorso di idee per l'acquisizione di una proposta ideativa per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa già avviata dall'ASP a giugno 2021 il commissario ha programmato il vincitore individuato nell'RTP composto da studio PLIC SRL mandataria Milan Ingegneria Area Tecnica Sering Ingegneria AVA Arquitettura Tecnica in Gestione SL Nel mese di aprile l'assessorato del territorio dell'ambiente ha autorizzato la realizzazione del progetto del nuovo ospedale di Siracusa in variante alla disciplina urbanistica generale del comune di Siracusa il 15 luglio il RTP ha presentato il progetto di fattibilità tecnica e economica che ha ottenuto il definitivo parere positivo da parte dell'organismo di verifica il progetto è stato sottoposto alla conferenza di servizio dello scorso 5 agosto in cui tutti gli enti invitati si sono espressi positivamente con osservazione da recepire nel prosievo il commissario è quindi disposto di dare comunicazione ai proprietari delle particelle interessate dalle opere della pubblicazione del progetto del nuovo ospedale che sorgerà lungo la strada per Florida il relativo decreto ministeriale era stato firmato nel settembre del 2020 e disponeva l'incarico di commissario straordinario il profetto Giussi Scaduto in questo secondo step dopo la scadenza del 6 novembre sarebbero due le ipotesi praticabili in questo momento per evitare che l'iter burocratico si blocchi e con esso il progetto esecutivo del nuovo ospedale Reduseo ritorna nelle mani dell'attuale presidenza del consiglio dei ministri che potrebbe adottare una proroga che consenta di nominare un nuovo commissario straordinario oppure il Parlamento lascia alla regione il compito e inviti l'azienda sanitaria provinciale a prendere in mano le redine per portare avanti il progetto in maniera ordinaria come vedete il lavoro del nostro profetto Giussi Scaduto è stato esemplare, unico il problema di Siracusa e dei suoi cittadini riguarda il signore del Vermex altra emergenza da noi denunciata riguarda la condizione degli edifici storici di Siracusa dopo il primo caso di via Cavour nella evacuazione delle sette famiglie abbiamo riportato il secondo caso quello dell'edificio che si trova fra via della conciliazione e via Santa Lucia all'Abbadia la legatura fra i due citati corpi murari è venuta meno creando un possibile grave pericolo per tutte le persone che percorrono detta arterie per andare e uscire dalla piazza Duomo ecco al momento le denunce lanciate sul degrado in cui versa Siracusa questi sono i fatti gravi e non l'inutile ponticello circopedonale e l'ascensore alla marina che fanno ridere i polli a crepapelle